Continua l'opera di sensibilizzazione dei carabinieri sul tema delle truffe ai danni degli anziani. Incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Campodoro in collaborazione con il parroco Don Lorenzo, l'unità pastorale e la compagnia dei carabinieri di Mestrino alla presenza del comandante Vincenzo Polizzotto, organizzato al centro parrocchiale. Abbiamo voluto mettere in piedi questo appuntamento per informare la cittadinanza sulle truffe che avvengono in questo periodo, spiega il sindaco Gianfranco Vezzaro. In particolare, negli ultimi giorni sono accadute due truffe ai danni degli anziani. La prima, con la scusa di un incidente avvenuto al figlio e della necessità di reperire soldi, il malvivente, dopo aver contattato telefonicamente l'anziano, si è recato da lui e si è fatto aprire la porta di casa, facendosi consegnare dei gioielli d'oro. La seconda, andata purtroppo a segno, è stata da parte di un finto incaricato del gas. Quando si hanno dei dubbi, è importante non aprire a nessuno e contattare i carabinieri al 112. Per le verifiche del caso, come amministrazione comunale, stiamo monitorando la situazione e siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.